Salve a tutti, sono lo chef Scannafacciolo, oggi ci troviamo a Porticello, paese di mare e di sole, ma purtroppo, come vedete, oggi c'è acqua di cielo a rompere. Benvenuti nel programma Consegne da Incubo, in questo programma giudicherò due rider che mi porteranno del cibo a domicilio. Ah, il primo sta arrivando, sì. Salve, ho una consegna per lo chef Nino Scannafacciolo. Io sono, grazie, accomodati che tra un po' che cominciamo. Cominciamo cosa, mi scusi? Silenzio, fammi travagliare, accomodati. Ecco, è arrivato l'altro. Salve, c'è una consegna da parte del ristorante Mare e Monti per Nino Scannafacciolo. Sì, io sono, grazie. Accomodati nella tua postazione e tra un po' cominciamo. Bene, è tutto pronto, iniziamo con Consegne da Incubo. Iniziamo col primo rider, vieni avanti. Cosa hai portato? Quello che ho ordinato lei, la pizza quattro stagioni. Ma ti chiamano quattro stagioni perché ci hai messo un anno per portare Mella. Ma veramente io avevo altre consegne. Iniziamo con l'assaggio. Come ben vedete, tutta la consa è bella appiccicata in una ciancata del cartone. Dimmi la verità, guardami negli occhi. Ma quando sei in giro a fare le consegne e vedi per strada le femminelle, arrampi con una ruota tipo per fare un fighetto, un tschetoschi. Veramente no, però a volte corre un poco, ma per consegnare il cibo più caldo. Iniziamo col secondo rider. Pedersi, prego, cosa hai portato? In salata di mare, l'ha ordinata lei. Allora iniziamo col tempo di consegne. Ci hai messo così tanto tempo che mi devi credere sono così incazzato che ti prenderei a schiaffi con la gran fa del polo. Dico, ma i camberetti dove sono? Secondo me i camberetti tu te li sei grattati. E stasera ti fai il cocktail con la zitta. Guardi, io faccio solo le consegne. Ma poi dico, c'è l'olio, almeno una svizia la potevi mettere. È piombosa. Amici, adesso che ho tutti gli elementi per giudicare, tra poco conosceremo il vincitore. Ero uscito come ogni giorno per fare le consegne, ma mai mi sarei aspettato di partecipare ad un programma. Ma se lo sapevo magari potevo anche arrivare un attimo prima. Scusate, ma comunque la consegna me l'aveva pagata. A questo punto spero di vincere, perché... Cos'è che si vince, scusate? Finalmente adesso che è nisciuto il sole, posso svelarvi il vincitore di Consegne da Incubo. Il vincitore è il rider numero due. Grazie, chef. Allora la consegna faceva schifo, però ti ho premiato perché il ciavolo dell'insalata di mare mi ha dato il petito. Bravo, bravo. Amici, vi saluto dal vostro chef Scannafacciolo. Ci vediamo alla prossima puntata di Consegne da Incubo. Scusi, chef, ma a me chi mi paga? Scannafacciolo.